buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovissimo video scusate per il capello un po sbarazzino un po come questa juventus che veramente non sa più che pesci pigliare eccoci qua dopo la seconda sconfitta consecutiva però in trasferta e complimenti tanto al verona che ci ha davvero dato una bella lezione di calcio io sono qui per chiedere scusa a Ronaldo che purtroppo si trova per l'ennesima volta a dover risolvere le partite facendo più che quello che può sostanzialmente e mi scuso perché Ronaldo questa juventus anzi in generale non ti meriti di stare alla juventus perché con una squadra di del genere io veramente non so più che dirti cioè ti stai rovinando la carriera stando alla juventus tornando alla juve io non do a questo punto più colpe al singolo ma è un po colpa di tutti sarri sicuramente ha le sue colpe io non rimpiango non rimpiango nulla nel senso non mi piaceva allegri non mi piace sarri l'ho già detto più volte nei video se non ci credete andateli a vedere sicuramente allegri l'avrebbe vinta non si sa però è certa solo una cosa che almeno allegri la fase difensiva la sapeva fare ora invece neanche sarri sa fare qualcosa la fase difensiva inesistente centrocampo non pervenuto attacco e la cosa è molto grave perché tra quattro giorni ti vai a giocare la partita di coppa italia col milan e poi il brescia in casa è un mese molto intenso anche perché tra meno di un mese avrai anche l'inter quindi intanto sicuramente vedremo oggi cosa farà sia l'inter che questo l'area e questa lazio un po un po mi preoccupo da questo punto di vista però la juventus sta buttando punti inutili si sapeva che il verona si sapeva che il verona faceva un determinato pressing se tu sarri hai visto le due ultime due partite col milan e con la lazio specialmente e hanno giocato allo stesso modo perché tu non la prepari in un modo diverso perché perché tu non la prepari in un modo diverso cioè hai avuto tutto il tempo per studiarti questa cazzo di di squadra e non l'hai fatto e a me questo mi fa incazzare perché non è possibile non è possibile e qui la colpa non è non è solo di sare perché ripeto sarri se noi vogliamo che sarri faccia il bel gioco anzi la società voleva che sarri facesse il bel gioco ovviamente doveva avere a disposizione determinati giocatori quindi se tu sono andato allegri per prendere dei giocatori non troppo fisico soprattutto che sappiano palleggiare che non girare subito il pallone che siano veloci di certo non lo puoi fare con un matuidi anche se matuidi oggi non c'era però magari con un rabbiò ma rabbio niente pianici ragazzi pianici ha fatto così praticamente è arrivato al punto più alto all'inizio stagione e poi a un certo punto un calo proprio che dare 5 è proprio come se si avesse preso 10 veramente proprio un'involuzione bestiale e la cosa che mi preoccupa è che soltanto De Litte ha diventato il fulcro di questa difesa cioè solo De Litte riesce a finalmente ha capito come come bisogna difendere e il migliore in campo è proprio lui la cosa che mi fa farebbe dire è proprio questa c'è Bonucci il rigore è netto ragazzi non è inutile che che lo diciamo anche quando non fa sto netto comunque meritavamo di perdere perché var non var fuori gioco non fuori gioco ragazzi meritavamo di perdere perché veramente non abbiamo fatto nulla e la cosa che mi fa ancora più arrabbiare è che noi siamo a intermittenza perché proprio all'ultimo ecco all'ultimo quando con l'entrata appunto di Ramsey riusciamo a fare qualcosa ragazzi non funziona così cioè il primo tempo ho detto beh magari la Juventus con il solito culo che ha magari con l'1-0 di Ronaldo riusciamo forse forse a pareggiare ma neanche quello ragazzi io veramente non so più di cosa pensare io credo che se continui così comunque quest'anno non vinceremo nulla partiamo da questo presupposto la Champions possiamo scordarcela perché con un centrocampo così dove vogliamo andare partiamo da questo presupposto seconda cosa importante la cosa che mi fa molto rabbrivedire è che forse quest'Inter in realtà proprio vedendo questi passi falsi alla Juventus ne può approfittare questa è davvero la cosa che un po' mi preoccupa quindi ragazzi non so più che dire veramente non... e rischia Sarri molto probabilmente di essere la prima e la sua ultima stagione alla Juventus quindi prepariamoci ormai io ho detto dobbiamo purtroppo tenercelo fino alla fine difficilmente la Juventus sono allenatori in corso campionato staremo a vedere certo che così però non possiamo andare avanti non possiamo fare tre punti soltanto in casa perché poi la tifoseria ne è come se non esistesse quindi anzi è brutto vedere che proprio gli ospiti vengono a cantare nel tuo stadio proprio è davvero snervante ma tralasciando proprio la partita non ci siamo cioè non veramente secondo me qua la colpa oltre Sarri un po' ma poi alla fine neanche colpa di Sarri perché non è colpa di Sarri se Bentancur fa il tacco in difesa se Pjanic dà il passaggio a Borini ragazzi io sono molto sono molto deluso da questa squadra è preoccupante è preoccupante perché purtroppo io spererei di vincere la Champions ma sperare non non ha senso forse faremo peggio dell'anno scorso comunque fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate commentate condividete iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi